sono elisa signori e insegno storia contemporanea quest'anno avremo 25 aprile diverso con le piazze vuote nessun corteo rito o discorso mi sono chiesta se c'è modo di tornare a 75 anni fa al 25 aprile del 1945 a partire dal clima particolare che stiamo vivendo in queste settimane con l'incertezza del futuro la nota drammaticamente costante dei lutti con i vuoti che si aprono tra le classi d'età più avanzate e proprio tra le generazioni coeve o comunque più vicine alla resistenza io credo di sì se lasciamo da parte da un lato la dimensione rituale della memoria come archivio di esempio e di pedagogia civile e dall'altro l'intenzionalità politica dell'attacco demolitore alla resistenza per smontarla e rinegarla in blocco e ci diamo come obiettivo una consapevolezza storica di un momento cruciale nel passato del nostro paese anzi questo 25 aprile è forse l'occasione per tornare alla nuda e cruda trama di tante vicende all'esperienza dei diversi attori alla complessità degli scenari è ora di tornare a quel momento tragico e epico insieme magmatico e creativo in cui gli italiani tenuti sotto tutela dal fascismo per vent'anni furono lasciati soli a scegliere da che parte stare tornare a quei 18 mesi che videro gli italiani battersi e morire per valori contrapposti e alla fine il progetto nazifascista di dominio del mondo fu sconfitto quell'epilogo ha consentito all'italia di rientrare nel novero delle nazioni pacifiche e civili e di avviare un processo di democratizzazione che è la nostra storia repubblicana da 75 anni e quel periodo è oggetto di appassionata indagine storiografica e al tempo stesso costituisce il terreno accidentato di un dibattito politico che si configura come luogo precipuo di interpretazioni antagonistiche di querelle ispirate più a logiche di schieramento che a un esercizio onesto di riflessione e comprensione storica tanto che la stratificazione di questo conflittuale discorso pubblico sul significato e l'eredità della resistenza si può leggere in controluce come l'evoluzione della storia contemporanea e la pluralità dei modelli ideali a cui si è ispirata nell'intreccio certo con le più ampie trasformazioni degli equilibri geopolitici del mondo il lavoro storico di tutti questi anni non merita una sbrigativa liquidazione basti pensare al salvataggio delle fonti con la creazione di archivi cartacei sonori visivi basti pensare all'uso di metodologie interpretative le fonti orali la storia sociale istituzionale le storie di vita e l'antropologia la messa a fuoco delle micro storie locali in raccordo con la dimensione nazionale internazionale delle vicende il recupero del contributo femminile a questa storia e poi ancora la deportazione la prigionia studiata in archivi nazionali e stranieri il ruolo del basso e alto clero indagato attraverso fonti soggettive l'uso di nuove categorie interpretative dopo la storia politica e militare della resistenza la storia della resistenza senza armi per mappare le forme della disobbedienza civile fino a arrivare al capitolo delle stragi naziste all'indagine sulle carte dell'armadio cosiddetto della vergogna per 40 anni occultato e quasi archeologicamente disotterrato dagli studiosi se l'accusa la storiografia di essere una narrazione unilaterale distorta è nel complesso inaccettabile e del pari assai scoperta l'intenzionalità politica della contestazione globale della resistenza due dispositivi retorici mi paiono presidere a queste operazioni da un lato la decontestualizzazione con la quale si esaminano fatti comportamenti idee alla luce dell'oggi strappandole da un contesto diverso un contesto di quotidianità disperante che aveva la morte come ingrediente costante e minaccioso dall'altro il seno del poi che serve a sminuire il significato di una scommessa contro il nazifascismo che in condizioni di schiacciante inferiorità di risorse umane economiche logistiche fu tentata da circa 250 mila partigiani italiani di cui 35 mila sono caduti da numero vicino a 600 mila di internati militari in italiani germania e poi da un numero imprecisato di uomini e donne senza armi solidali con i partigiani soccorrevoli a rischio della loro vita verso gli ebrei perseguitati prigionieri evasi britannici o americani insomma per nessuno di costoro l'esito era minimamente sicuro e la partita in gioco aveva la posta più alta la vita infine a corroborare questo misconoscimento in atto della rilevanza storico politica della resistenza si mettono in campo due strategie persuasive anch'esse pretestuose la prima in collegamento col fascismo è appunto la rappresentazione di questo come di una dittatura all'acqua di rose in fondo bonaria inocua capace anzi di spinte modernizzatrici e in fondo vittima della sfortunata alleanza con il nazismo la seconda è la comparazione vantaggiosa per il fascismo da un lato con la spietata conseguenziarietà del nazismo dall'altro con il comunismo totalitario tutti e due assunti come negatività assolute al cospetto delle quali il regime nostrano appare impreciso e tutto sommato veniale qui mi fermo sono argomenti che ritroviamo nella polemica quotidiana da alcuni anni e che sostanziano iniziative recenti intitolazione di vie a personalità fasciste assenza di rappresentanti istituzionali agli anniversari del 25 aprile dichiarazioni pubbliche intonate a una diffusa voglia di amnesia d'intesa con gli amici dell'istituto per la storia della resistenza in provincia di pavia vorrei proporvi un antidoto a questa amnesia una breve riflessione su vicende di 75 anni fa che hanno nell'università di pavia e nella resistenza pavese il loro contesto buon 25 aprile a tutti i giorni indimenticabili della liberazione a dire indimenticabili quei giorni fu plinio fraccaro un antichista di grande valore un mai iscritto al pnf nominato rettore dell'università di pavia durante la parentesi badogliana è tornato ad esserlo il 26 aprile 1945 per indicazione del cln e del comando alleato il rettore della liberazione così si è soliti ricordare fraccaro pronunciò per l'inaugurazione dell'anno accademico 1945-46 un discorso di grande patos e di nessuna retorica fitto di richiami alle vicende di quella bufera cui l'ateneo la città il paese erano astento sopravvissuti e proteso verso l'albeggiare disse di una nuova vita che a tutti avrebbe richiesto una renovazio profonda in virtù della libertà che si tornava a respirare e della responsabilità che essa imponeva a ciascuno perché disse solo chi è libero è responsabile tra gli episodi dei giorni dell'insurrezione fraccaro ne ricordava tra gli altri due che sembrano i simboli di due polarità opposte l'uno era un preludio un lampo di luce e di energia che agli occhi di molti aveva anticipato l'alba della liberazione l'altro era un cupo epilogo un colpo di coda della barbarie che aveva infuriato per anni in città e in campagna del primo erano protagonisti tre giovani di giustizia e libertà dante faccioli 19 anni già protagonista del sequestro del rettore franco andreani assistente alla clinica delle malattie nervose una studentessa di filosofia ornella dentici sorella di jacopo già al fianco di ferruccio parri poi deportato e assassinato a mauthausen i tre si erano lasciati chiudere dentro l'università la sera del 20 aprile eludendo ai controlli dei custodi l'impresa fu poi raccontato in un articoletto con un titolo da film una notte in università ma i particolari li diede ornella per iscritto in una relazione successiva spiegando che si erano nascosti in aula volta al primo piano del palazzo centrale dell'ateneo forniti di giornali colla vernice e pennelli ed ecco ricordo poi fraccaro la sorpresa della mattina del 21 quando l'interno dell'università apparve tutto tappezzato di scritte antifasciste antitedesche e la bandiera della ribellione fu vista sventolare sulla specola del palazzo i tre avevano lavorato tutta notte e avevano issato la bandiera rossa con scritto giustizia e libertà sulla torretta quella dell'orologio che scandisce le elezioni la vita dell'ateneo un colore rivoluzionario e un messaggio di libertà sbandierati in pieno centro erano un'autentica sfida proprio in faccia alla prefettura e alla sede del partito fascista repubblicano coi suoi vessilli neri e il presidio armato fu tutto un accorrere da ogni parte di polizie e milizie dice fraccaro un affrettarsi a raschiare e a coprire le scritte ornella destinata a diventare a pavia caposcuola degli studi di psicologia nel dopoguerra e mancata nel 2017 scrisse che a intralciare l'intervento della polizia il gruppetto uscito indenne dall'impresa aveva usato l'accorgimento di tirare fili misteriosi sulla rampa che conduceva la torretta per far credere alla presenza di congegni esplosivi il danno e la beffa insomma perché il deterrente funzionò a dovere e le autorità chiesero l'intervento degli artificieri intanto la città tutta poteva cogliere quel segno di speranza e di incoraggiamento che arriva dall'alto su strada nuova dai tetti dell'università l'altro episodio che fraccaro vuole raccontare è del 26 aprile l'insurrezione stava vincendo a genova a milano a torino le trattative per la resa dei repubblichini si erano intrecciate il giorno precedente anche a pavia in broletto in prefettura all'arsenale e pezzo a pezzo erano cadute le postazioni delle brigate nere ma non mancavano gli scontri nella trattativa si era inserito anche il vescovo si profilavano tregue e la possibilità di una ritirata tedesca che non insanguinasse la città sulla notte fonda tuttavia il comando tedesco abbandonò pavia insieme con un'autocolonna proveniente da sud si diressero verso lodi tra le vittime è caduto anche un professore un professore di geografia bruno castiglioni nella cascina cravino al limitare nord ovest dell'abitato quasi in campagna aperta si erano infatti asseragliati tedeschi e da quella batteria facevano fuoco verso la città il professore parla tedesco e tenta di parlamentare si offre dunque ricorda fraccaro di avvicinarsi alla batteria tedesca per persuadere gli uomini ad esistere dalla lotta è disarmato ha una bandiera bianca una raffica di mitraglia lo abbatte non muore subito resta abbandonato sul terreno poi tentano di salvarlo con un'amputazione ma in vano si spegne a 47 anni dopo lunga agonia fraccaro ricorda che fecero in tempo ad annunciargli nella notte la fine dell'occupazione tedesca era un ragazzo del 1898 castiglioni una delle ultime classi di leva chiamate al fronte nella prima guerra mondiale ma in guerra c'era andato da volontario nel corpo degli alpini e aveva combattuto sul tonale di valposina poi al ritorno si era immerso negli studi era esperto di geografia fisica gran camminatore studioso delle alpi e dei ghiacciai dell'appennino delle valli e dei regimi fluviali da capitano dell'ottavo reggimento alpino nel 1939 durante la campagna per l'annessione dell'albania al regno d'italia aveva effettuato diverse ricognizioni aeree via mare via terra a nord di tirana e durazzo un fondo donato dalla sua famiglia la società geografica italiana raccoglie un corpus davvero straordinario di scatti di varia natura presi da lui in quelle ricognizioni paesaggi ritratti luoghi simbolici e strategici ora la cascina cravino appartiene all'università ed è sede del centro grandi strumenti l'ateneo ne acquisì terreni negli anni 60 e con il progetto dell'architetto giancarlo de carlo vi costruì il suo polo scientifico tecnologico gli studenti hanno affibbiato nomignoli ai diversi fabbricati uno è la no la nave quasi un battello arenato tra le nebbie padane un altro deve il nome di melanzana al colore del rivestimento normalmente ferve la vita in questi luoghi dove si è combattuto in quei giorni di aprile di 75 anni fa e forse un segno tra i laboratori le aule le biblioteche dovrebbe ricordare quei rabbiosi colpi di mitraglia che qui si spararono contro uno studioso con la bandiera bianca 5 suur Здесь anche la bandiera bianca con la bandiera bianca al corretto al corretto gross rabbisio il impatto mio solito gunno quina ормutici li